Allora, noi abbiamo scelto un argomento che è arte e tradizione di Mila Catea. Siccome noi sappiamo che lei realizza quadri, scultura... Ho sentito quasi. E noi vogliamo fare l'intervista. Allora, ti chiedi che tu le domande. Allora, nonno, perché dipingi? Per passione. Perché lei... Lei da dove ha preso questa passione? Ha natura. Sono andato con questa passione. Capito? Io scolo e mangio no. Da quanto tempo dipingi? Di piccolino, perché ho davanti sempre quei pezzi. Ti puoi mettere un momento a fare sculture e pitture. Capito? Come rialisti quasi. Come rialisti, forse al sentiero. Quello che guardo faccio. Io... Quando guardo al sentiero faccio. Io ho visto che lei fa costruirsi anche il materiale per fare il quadro. Qualcuno, sì, ma è struttura, pietra. Tuvo e pietra, proprio. Capito? Il colore? Il colore è forse il cervello. Perché se tu devi fare una cosa, già... Questo è il cervello, già vede quello che vuoi fare, ma dalla persona ci dà il colore. Capito? Io ho fatto pure tutte le mani in miniatura. Io ho fatto pure tutte le mani in miniatura della scala. Che devo fare un poteo all'escala tutto il quadro mio. Capito? Il colore è forse il cattore di sugo, a fare l'università, è meglio ancora di questo. Tipo... Allora... Ho fatto tutta le mani in miniatura 12 e mele. Ok. Perché ti appassiona i santi? Perché guarda quello... Lei, io so che io ho visto il sole, che ti appassiona più a fare, per esempio, tu, Maria, i santi... Ma io a me è bella che... O mai è il cervello, quello che è il cervello è il nostro. Ok. Oggi è bella che voglio fare scultura, domani voglio fare scrittura. Un giorno qua non vedo. E lei che tipo di sculture piace fare? I più... Antiche, tutte le sculture antiche, tutte queste. Le modelle, le olze, non mi hanno chiesto. Eh, io ho saputo che lei ha fatto pure un modellino di San Giussetto. Come lo hai dedicato? Tante le sculture antiche? Che potere? Un modellino di San Giussetto. Ah, no, c'ho tutta la mia nomina che dice io. Eh, no, dico, della chiesa San Giussetto, lei ha fatto una scultura. Sì. Eh, come la vuoi evoluzione? È fatta tutta il tuffo e il marmo. E gli ha detto, a me c'è anche sempre. Se tu vuoi guardare il tuffo... L'ho vista, l'ho vista. ...la scende... No, la te, la scende è quasi interno. Dove va tanto il cuore, dove va a stare... Tu, c'è tutto. Ho visto anche... Non c'è qualche male... Ti ha scato un pietro, ho visto... No, il parchetto della musica. Il parchetto della musica e ti ha scato un pietro. E ti ha detto, io ce l'ho arrivata a tutta la musica. Se tu ti chiedi, se sono la melana, un po', l'hai vista? L'hai vista drutto. Sì. Sì. Sì.